E' morto a pochi metri da casa Alfonso Vagliano, il 69enne di Celsi di Forino, come ogni mattina intorno alle 7.30, si stava recando nella vicina campagna di sua proprietà, percorrendo un breve tratto di strada sulla provinciale. Quando è stato investito dall'autocarro, l'impatto è stato particolarmente violento. Il corpo dell'uomo è stato sbalzato contro un cancello a margine della strada. L'allarme sarebbe stato lanciato dal conducente del veicolo che ha allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti una pattuglia di carabinieri e un'ambulanza del 118, purtroppo ai sanitari. Non è rimasto che decretare il decesso dell'uomo troppo grave. Le lesioni riportate nello schianto, i militari della compagnia di Vagliano hanno avviato un'indagine per accettare la dinamica dell'incidente diffusosi in un baleno. La notizia della tragedia ha messo in ginocchio la piccola comunità di Celsi. Alfonso Vagliano era molto conosciuto in paese, è stimato come grande lavoratore, impegnato in un'azienda di legname. Un padre attento e generoso, sempre vicino ai suoi tre figli. Una persona squisitissima, una persona che pensava soltanto alla famiglia, ai figli e a nient'altro, voglio dire. Persone migliori di quelle, non ce ne sono. Il dolore e la rabbia di chi ha sempre denunciato la pericolosità di una strada, spesso in passato teatro, di gravi incidenti. Molto a rischio, sono da oltre 30 anni. Da pensare che 60 anni fa qua c'erano dei platani, come Mercogliano, furono abbattuti perché c'era già il problema della mortalità delle persone che purtroppo... Da allora ad oggi sono morte svariate persone, penso intorno a 7-8 persone. Nonostante abbiamo sempre chiesto, io come quelli là prima di me, più grandi di me, abbiamo sempre chiesto di mettere dei risuasori, non lo so, di mettere delle telecamere, ma non c'è mai stato niente di concreto. Ogni tanto continuano a morire. Grazie a tutti.